Per un minuto a Facoltà l'On. De Magistris. Ci sono stati fatti dei passi avanti molto significativi col Consiglio che all'inizio non voleva rispondere e di questo do personalmente atto alla Presidenza svedese che ha sempre voluto dimostrare di operare verso la trasparenza e la correttezza. Quindi ci aspettiamo da questo punto di vista ulteriori passi avanti perché ovviamente non è assolutamente accettabile, soprattutto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che il Parlamento non abbia informazioni e notizie proprio per verificare i bilanci e i fondi pubblici nell'interesse non solo dell'Unione Europea ma anche di tutti i cittadini dell'Europa. Grazie.